Quattro piani, ambienti luminosi, tonalità cromatiche che spaziano dal verde all'arancione e al blu. Stanze pronte, arredate e riscaldate con tecnologia di ultima generazione. L'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II attende da un paio d'anni di trasferirsi dall'attuale sede di via Haneman all'ex ospedale Cotugno. Massimo Cassano, consigliere regionale del PDL, promuove l'ennesimo sopralluogo con i giornalisti. Accompagnata dal direttore dei lavori Giancarlo Salomone, la comitiva può vedere da dentro quello che rischia di diventare l'ennesimo monumento allo spreco di denaro pubblico. La ristrutturazione infatti non ha riguardato solamente l'edificio. Il nuovo Oncologico è un gioiello di tecnologia, di apparecchiature all'avanguardia per la diagnosi e la cura dei tumori. Ma è singolare per usare un eufemismo che accanto a due acceleratori lineari ultramoderni non ci sia l'apparecchio per la PET, la tomografia a emissione di positroni, una delle armi di maggiore efficacia contro i tumori. Lo spazio ci sarebbe ma al momento non esiste traccia di finanziamento. Perché allora non si provvede al trasferimento? Il problema sembra di natura burocratica. Da un lato l'ASL di Bari sta perfezionando il trasferimento del patrimonio all'oncologico, dall'altro vanno completati i collaudi amministrativi delle apparecchiature e va acquisito il nulla osta definitivo dei vigili del fuoco. Noi possiamo anche intervenire sul Ministero per mettere su questo tavolo rispetto al Ministero, all'oncologico, all'ASL e alla Regione per chiudere un accordo che pare sia indispensabile per andare avanti e quindi per aprire l'ospedale.